Buongiorno Milano dal Museo del Novecento. L'opera che vedete alle mie spalle è il celebre quarto stato di Pelizza da Vortegno. Siamo qui oggi perché esattamente cento anni fa, il 20 di maggio del 1920, il Comune di Milano acquisì questa grande opera. Allora Milano stava vivendo un momento riformista e la città era guidata da un grande sindaco socialista, Emilio Credala, ma di fatto fu una sottoscrizione popolare che permise l'acquisto e gli parteciparono dai banchieri, agli artigiani, dall'arte allo Stato. Questa stagione di riformismo municipale fu interrotta poi dalla dittatura fascista, ma nel dopoguerra un altro grandissimo sindaco milanese, il sindaco della ricostruzione, Antonio Gretti, portò il quarto Stato a Palazzo Marino e venne messo in sala consigliata. Torniamo a Palazzo Marino ora. Il quarto Stato è uno dei quadri simbolo del Novecento, tant'è vero che Bernardo Bertolucci lo scelse come immagine simbolo del suo film che si chiama appunto Novecento, tra l'altro consiglio di rivederlo nella versione integrale, io l'ho fatto molto recentemente. Ma tornando al quadro, Pelizza da Volpedo rappresenta il popolo in quel quadro e la donna in primo piano con un bambino in braccio è sua moglie, rappresenta il popolo ma soprattutto riconosce il grande valore del lavoro. Da questo punto di vista è un quadro molto milanese, perché per noi il lavoro se non è tutto è moltissimo, perché il lavoro è ciò che ha guidato la nostra storia e che ci garantirà di proiettarci in un futuro anche migliore, perché noi chiediamo ai nostri cittadini di credere nel lavoro, di sentire il lavoro come un dovere e cercheremo di fare di tutto per procurare lavoro a tutti. Buona giornata a tutti voi.